Eccoci amici, bentrovati, bentrovati, l'appuntamento con l'informazione di Tele Iblea sul canale 89. Parleremo di Trapani, parleremo di Palermo dove c'è, per dopodomani è previsto un importante incontro sull'immigrazione. Ma apriamo parlando di fatti di casa nostra, che sono interessanti certamente perché si tratta di una delle più grandi infrastrutture di questa area del sud-est della Sicilia ed è il porto di Marina di Ragusa. Allora sul porto di Marina di Ragusa ci sono molte attenzioni, fra cui quella anche di un consigliere comunale, ora sentiremo l'intervista che abbiamo fatto con lui in seguito a quello che ha dichiarato il consiglio comunale. Ma intanto ci arriva una nota di Maurizio Villaggio che è il capo dipartimento pianificazione territoriale della democrazia cristiana. La democrazia cristiana, il partito di Totò Cuffaro, il partito di Abate, di Ignazio Abate e di altri. Cosa dice il responsabile della pianificazione territoriale? Si lamenta del fatto che al porto di Marina di Ragusa c'era stata una iniziativa che faceva riferimento a questo nuovo catamarano. Vi ricordate, ne abbiamo parlato qualche mese fa? c'era questo imprenditore maltese che ha acquisito in qualche modo le azioni del porto di Maria di Ragusa che aveva lanciato anche questa idea di un catamarano che potesse collegare Ragusa con Valletta, con Malta. Ragusa, Marina di Ragusa naturalmente. Ora pare che questa cosa viaggi con una certa difficoltà, cioè le autorizzazioni hanno problemi e infatti scrive, dice non vorremmo farci sfilare da sotto il naso la gestione di un'infrastruttura come appunto il porto turistico, un gioiello che da Roma in giù nessuno ce l'ha così. La storia del territorio di Ragusa è ricca di vicende. Allora, se sarà necessario, dice il responsabile della democrazia cristiana per la pianificazione territoriale, mi farò promotore di iniziative atte a coinvolgere le forze politiche del territorio e eventualmente a interessare la regione per far sì che certe cose possano andare avanti. In pratica non si fa un preciso riferimento, ma non parla di nomi, dice, mi riferiscono che il progetto del catamarano che dovrebbe collegare Mani di Ragusa a Malta sia fermo al palo. Allora, io ho un'altra teoria naturalmente, perché bisogna anche, ci sono due, è un po' come il ponte, il ponte dove Salvini dice, ah non volete il ponte, non volete il ponte, alla fine non ve lo faccio. E quindi lui ha l'anima tranquilla, la coscienza a posto, perché ha detto, io ve lo voglio fare, ma voi 10.000 in piazza, dite che non lo volete e ne avevoci, non ve lo facevo. Potrebbe essere anche questa, ci vorrei fare, portare il catamarano, ma siccome il catamarano ha un costo, attenzione, qui non si parla di una barchetta che ha cacciambi, rutaniche di benzina e parte e va a Mani di Ragusa, si parla di un grosso natante che viaggia spedito e che ha un certo consumo, ha un certo costo di affitto, perché non sarà certo suo di affitto, qua là, e si saranno anche fatti dei business plan. Dice, ma cosa ci portiamo con questo catamarano da Marina di Ragusa a Malta? I passeggeri, ma già ce n'è uno a 35 km, molto più grande, molto più organizzato, che porta centinaia di mezzi commerciali, che quindi del fatto che ci siano i passeggeri o non ci siano i passeggeri non gliene frega niente e che quindi possono fare il discorso che fa la Ryanair quando vuole ammazzare una tratta. Tu cosa vuoi fare? Vuoi mettere un volo, scuso Comiso, perché Comiso, da mattina è successo un casino, perché il volo dell'Air Italy non è partito, poi c'è voluto un po', ma l'escluso Comiso, arriva l'Arena e dice, ah tu vuoi fare un Palermo-Roma? Io ti metto subito un altro Palermo-Roma e ti faccio i biglietti a 15 euro. Siccome l'Arena se lo può permettere, è la stessa cosa probabilmente la Virtu Ferri se lo può permettere di abbassare i costi e comunque potrebbe anche avere una certa forza politica per scoraggiare ogni altra iniziativa, lo abbiamo già vista questa cosa con quelli di Augusta, con altre iniziative che volevano collegare la Sicilia con Malta, quelli della Virtu praticamente si sentono monopolisti perché l'hanno fatto loro, l'hanno portato avanti loro, sono 30 anni che ci lavorano, hanno costruito i mezzi migliori per la qualità del viaggio delle persone e quindi, allora, io non vi so dire se c'è un intoppo burocratico qui, ma non credo e non credo che ci sia un problema che il Comune non voglia autorizzare il viaggio del Catamarano, non sarebbe certamente compito del Comune, ma credo che l'inghippo sia da un'altra parte, sia dalla parte maltese dove, credo, ci siano delle regole, ci sono delle esclusive, dice, ah ma le rotte del mare sono libere, certo, ma ci sono delle esclusive sugli usi degli spazi portuali e compagnia bella. Quindi il grido allarme di Maurizio Villaggio noi lo prendiamo per buono, ma secondo me dobbiamo andare molto più a fondo per capire chi è che blocca una situazione del genere. A questo punto però torniamo a quella che era la vicenda principale con la quale abbiamo aperto il nostro telegiornale, cioè la questione di questo porto, di chi è questo porto, chi sono quelli che lo hanno comprato, non ci dimentichiamo che il porto di Maria di Ragusa è un project financing, in pratica diciamo che una buona parte è del comune di Ragusa che è sempre proprietario della struttura, ma poi chi ci ha messo i soldi ha preso la gestione. Ultimamente chi ci ha messo i soldi non ne aveva più e quindi c'è stata un'operazione per la quale secondo alcuni il porto è stato ceduto per un piatto di lenticchie, chiaramente equivalente, sempre qualche milioncino di euro, ma ben poca roba a confronto di quello che può essere un porto turistico del genere e però ci sono state diverse interrogazioni da parte del consigliere Mauro, prima ha chiesto ma quali sono i costi, come sono stagliati questi soldi e ora si è preoccupato di sapere in verità chi sono i proprietari del porto, anche noi sappiamo che è una società che fa capo ad un imprenditore maltese, si chiama Gauchi, che è proprietario di supermercati e anche di catene di negozi di marca, negozi di abbigliamento, che però non mi pare che abbia un curriculum tale dal punto di vista della gestione portuale per andare a occuparsi del porto di Maria di Ragusa. Quindi il consigliere Mauro chiede di sapere se effettivamente dietro c'è qualcuno, se c'è qualcosa che non convince, insomma tutte queste cose sono state espresse in una interrogazione, ma meglio ancora, noi l'abbiamo intervistato, vediamo cosa chiede al comune di Ragusa.